Buongiorno a tutti, allora, trucchi cheat per home console, quindi Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo, Master System, queste console qui. Allora, io i cheat l'ho sempre usato, sempre, insomma, le volte che l'ho utilizzato l'ho sempre fatto tramite MAME per quanto riguarda i giochi arcade. Per quanto riguarda i giochi da console, invece, non mi è mai venuto in mente, però visto che porto anche delle live su Twitch, e a volte, no, a volte, a me piace portare di solito un gioco completo, siccome che su console ci sono dei bellissimi giochi, ma sono molto difficili, oltretutto non avendo il credito, non abbiamo i continui infiniti, perciò, insomma, se sai giocare, se sei abbastanza abile, riesci ad arrivare alla fine, altrimenti muori magari a metà gioco. Capite che cominciare una live e morire a metà gioco è un peccato, quindi, magari, mi do un aiuto e mi do qualche credito in più, tanto da poter continuare più volte, almeno, e poter uscire così, avere più probabilità, diciamo, di arrivare alla fine del gioco. Non è un argomento semplice. Per abilitare i trucchi, diciamo, ci sono dei codici. Questi codici sono di vario genere, quindi non c'è solo un tipo. Ogni emulatore ha un suo sistema per inserirli, capite che è una cosa che richiede un po' di minimo di studi, insomma, se volete approfondire il discorso, eh. E comunque adesso vi spiego come applicare i trucchi con il Bizhawk, in particolare sulla piattaforma Genesis, perché da qualche parte dovevo anche cominciare. E comunque questa mi ha sembrata una piattaforma, diciamo, abbastanza semplice da poter applicare a questi siti, quindi. E niente, allora, vi lascio al video. Molto bene, allora, questo è uno dei tanti siti dove è possibile reperire codici con cui poi possiamo applicare dei trucchi per vari giochi di varie piattaforme. Allora, innanzitutto partiamo col capire a quale gioco vogliamo applicare un trucco. Quindi nel mio caso, stando in ambiente Genesis, andrò ad utilizzare Streets of Rage. Quindi diciamo che voglio giocare a Streets of Rage con dei trucchi, ok? Per vari motivi, non lo so, perché magari voglio finirlo e avere dei crediti infiniti, piuttosto che l'energia infinita o del tempo infinito, non lo so. Comunque, allora qui troviamo le varie piattaforme, individuiamo in questo caso SIGA Genesis, eccolo qui. Quindi clicchiamo sopra. Si apre un'altra finestra con una lista, diciamo, di giochi in ordine alfabetico. Vado ad individuare, in questo caso la S, posso anche cliccare direttamente sulla S. e vado a trovare praticamente Streets of Rage. Eccolo qui. Streets of Rage. Ah sì, attenzione perché qui non ci sono tutti i giochi, eh. Se per caso non trovate un gioco, dovete cercare altrove. Cambiate fonte, andate su Google e vi cercate altri siti dove vi offrono altri codici. E provate e vedete se funziona. Allora, Streets of Rage, clicco. Ok, si apre un'altra finestra. E qui troviamo tutti i codici disponibili per Streets of Rage. che fanno alcune cose. Allora, esempio, sono, vi dico, è, diciamo che il sito è strutturato in questo modo. Si parte dal numero 1 e si va avanti in ordine crescente. Ad esempio, il numero 1 abbiamo questo codice. Cosa fa questo codice? Di fianco c'è scritto Both players start with one fighter. Quindi praticamente tutti quanti, entrambi i giocatori, cominciano il gioco con una vita. Ok, poi ad esempio il numero 2 cosa fa? Altro codice. E di fianco fa più o meno la stessa cosa, però ci fa cominciare il gioco con 5 vite. Poi ne abbiamo uno con 7 vite, uno con 9. Ok, possiamo ad esempio cominciare con il tempo a 99, con il tempo a 25. Possiamo cominciare anche da un livello specifico. O dal round 2 piuttosto che dal round 8. Quindi possiamo fare una serie di cose. Adesso io per darvi un esempio abbastanza evidente, andrò a scegliere questo codice. Questo che mi dà 9 vite. In modo che cominciamo il gioco e così verifichiamo subito a colpo d'occhio se abbiamo le 9 vite. Quindi cosa devo fare? Io innanzitutto devo copiarmi questo codice. Ok? Allora qui io seleziono il codice, tasto destro, li do copia. Oppure posso selezionare, fare CTRL-C della tastiera. Oppure posso ricordarmi la memoria, riscrivomelo dopo. Oppure me lo posso anche scrivere su un pezzo di carta. Fate come credete meglio. Ok? L'importante è copiare questo codice. Quindi tasto destro, copia. Questo è quello che faccio io. Ora andiamo nella cartella del nostro bizzoc. Facciamo partire l'emulatore e facciamo partire anche il gioco. Allora io le ho qui. Streets of Rage World. Apri. Ok. A questo punto, una volta che il gioco è partito, possiamo andare a settare e diciamo inserire e abilitare il nostro codice, il nostro cheat. Allora come facciamo? Andiamo su Tools, qui in alto. Scendiamo giù e abbiamo Cheats. C'è l'icona di un fiore con di fianco scritto Cheats. Lo clicchiamo. Ok. Questa è il programmino, perché alla fine è un programmino, che gestisce tutti quanti i trucchi per il gioco. In questo caso per il Genesis. Adesso io evito di dirvi tutto quello che fa. Vi dirò solo un paio di cose, due o tre cose, giusto quelle più importanti secondo me. Per tutto il resto dei settaggi dovete provare voi. Però siccome che è una cosa un po' particolare, anche un po' delicata, nel senso che adesso noi stiamo veramente andando contro natura del gioco stesso, ok? Quindi va preso un po' con le pinze, no? Già l'emulazione in sé, ok, va bene, può andar bene, come no. Ma qui siamo un po' più oltre, cioè, quindi se non va una cosa, basta, non funziona. Neanche perderci tempo, sbatterci la testa più di tanto, eh. Allora, adesso io quel codice che ho copiato, devo in qualche modo inserirlo qui dentro. La via più semplice è questa. Vedete qui che c'è scritto Code Converter. Se io lo clicco, mi si apre un'altra finestrella. Oppure posso anche andare su Tools, Cheat Code Converter, è lo stesso. Clicchiamo qui. Vedete, mi ha aperto questo. Pro parentesi, questa finestrella mi dà la possibilità di utilizzarla perché sto usando la piattaforma Genesis, però, attenzione. Con altre piattaforme, questa non ce l'ho, non posso usarla. Quindi bisogna inserirlo in un altro modo, ok? Però con il Genesis ho visto che, e con il Bizhawk, chiaramente, è molto semplice. Perché appunto ci viene incontro questa utility. Allora, il codice che ho copiato, devo inserirlo all'interno di questa finestra bianca. Vedete? Cheat Code. Tasto destro, in questo caso, incolla. Oppure Ctrl V, come andate meglio. Oppure ve lo scrivete a manina. Description. Allora, ci conviene comunque, in qualsiasi caso, scrivere cosa fa. Io so che ti dà 9 vite, quindi qui scrivo 9 vite. Perché lo facciamo? Perché noi possiamo aggiungere più di un codice, più di un cheat per gioco. Così almeno abbiamo una lista e sappiamo ogni singolo codice, cosa comporta, cosa fa, insomma. Così se posso decidere anche magari di disabilitarne uno piuttosto che un altro e viceversa. Quindi bisogna comunque dare una descrizione, ci conviene. Una volta fatto questo, clicchiamo su Convert. In automatico, vedete, mi ha inserito il codice all'interno di questa finestra, diciamo, del programma di gestione dei cheats. Ok? Me l'ha anche già attivato. Ok? Il problema è che se io provo ad avviare il gioco in questo frangente, cioè in questa situazione così, il gioco non funziona, cioè nel senso il gioco funziona, ma il cheat non funzionerà. Questo perché dobbiamo andare a modificare un settaggio. Il settaggio che dobbiamo andare a cambiare è questo. Quindi noi clicchiamo sulla linea, sulla riga, vedete. Qui ci apparirà nove vite, tutte le informazioni che ho scritto io. Queste le inserite, il programma, in automatico. Quindi anche qui capite che è di grandissimo aiuto questa utility, perché comunque ci precompila già il codice. altrimenti questo dovremmo farlo a mano, ma io non so cosa devo inserire. Capite che diventa un po' complicato, no? E la cosa, quindi da cheat selezionato, la cosa che dobbiamo andare a modificare è questa. Qui vedete domain, c'è una tendina, la clicchiamo e dobbiamo andare a selezionare mdcart. Adesso io non so se mdcart, stia per megadrive, cartridge. Potrebbe anche essere. Il fatto sta che selezionando questa voce, allora adesso riusciamo ad abilitare e far funzionare il cheat. Ultimissima cosa, bisogna però in qualche modo salvare questa cosa che io ho impostato. Come lo facciamo? Lo facciamo cliccando su edit. E clicco su edit. Ok, adesso ho impostato, ho salvato questo mdcart, diciamo, no? Infatti se io clicco fuori e riclicco dentro, vedete? Lui resta mdcart. Così siamo a posto. Il cheat è attivo. Lui in automatico, quando inseriamo un codice, un cheat, lui ce lo attiva. Ok? Per il momento ci va bene così. Adesso facciamo un piccolo game test, tanto per vedere se effettivamente abbiamo le nove vite. Quindi qui cominciamo. Rilascio tutto di default, non tocco nulla. Selezioniamo un personaggio. Ok, vedete? Abbiamo per nove. Quindi confermo che il cheat funziona. Ok? Bene. E altra cosa da dire. Il cheat l'abbiamo inserito. Lo chiudo, diciamo. Chiudo. Questo comunque si può chiudere, non è che dobbiamo giocare con quello riaperto, assolutamente. Anche perché lo inseriamo una volta e basta, insomma. Dopo lo abbiamo sempre già inserito, no? E chiudo anche l'emulatore. Facciamo finta che io fra un paio di giorni voglio rigiocare di nuovo. Ok? Bene. Quindi faccio partire l'emulatore. Carico nuovamente la ROM, quindi file. Streets of Rage. Vedete? Schermo rosso, tutto bloccato. Allora, perché succede questo? Perché per alcuni giochi non possiamo abilitare i cheat prima di avviare il gioco. Quindi in qualche modo dobbiamo disabilitare il cheat momentaneamente, avviare il gioco e riabilitarlo. Ok? Quindi insomma, possiamo fare... Ci sono vari sistemi per farlo. Uno potrebbe essere, tipo... Faccio partire il cheat... Apro il programmino dei cheat, diciamo. I cheat. Vedete? Questo è attivo. Per disattivarlo basta fare il doppio clic sopra. Vedete? Da 1 cheat è diventato 0 attivi. Ok? Doppio clic e si riattiva. Doppio clic e lo disattivo. Ok? Questo è per fare molto prima. Probabilmente ci sarà anche qualche impostazione qui. Ad esempio abbiamo anche un disable all. Ecco che magari si disattivano. Comunque sono cose che potete tranquillamente provare voi. Ma sinceramente ragazzi, un semplice doppio clic. Ok? E siamo a posto. Quindi cosa facciamo? Lo disattivo. Una volta disattivato... Questo posso anche chiuderlo, eh? Perché comunque non c'entra. Allora provo a riavviare il gioco. Quindi emulation, gli faccio anche un reboot del core. E vediamo se parte. Vedete? È partito. Adesso vado nuovamente su tools, cheats e qui vado a riabilitare il mio trucco. Qui posso anche chiudere tranquillamente. E se vado a verificare adesso ho sempre le mie 9 vite. Andiamo. Ok, vedete? E siamo a posto. Quindi avete capito che... Ok, vedrete che alcuni giochi partono già... Perché comunque il Beatshawk di base, lui in automatico, ci carica già il cheat. Ok? Tutti i cheat per quel determinato gioco. Ok? Vedrete appunto che alcuni giochi andranno. E altri giochi probabilmente non andranno. E dovete fare quel piccolo giochino. Comunque in qualche modo dovete momentaneamente disabilitare il cheat. Oltretutto ci dovrebbe essere una funzione. Qui vediamo setting. Ecco qui. Vedete abbiamo questo. Disable cheats onload. Ecco che questo potrebbe essere un altro sistema. Magari io posso abilitare questo. Tenere abilitato il cheat. Però comunque... Vedete adesso è abilitato. Comunque io adesso se faccio un reboot con i cheat diciamo attivi. Però avendo spuntato quello, quindi... Avendo spuntato una voce che praticamente non mi carica il cheat. All'inizio quando si avvia un gioco. Quindi provo a dare il reboot cord. Vorrebbe partire. E infatti è partito. E infatti cheat non ci sono. Qua non mi è apparsa la scritta del caricamento del cheat. Che comunque appare se ci sono. In più qui non vedo l'icona del fiorellino. Quindi vuol dire che i cheat al momento non ci sono. E quindi devo comunque poi andare su tools. Cheats. Ok? Vedete? Me l'ha spostato diciamo comunque a zero. Devo fare di nuovo doppio clip. E ho riabilitato il cheat. Insomma ci sono un po' di passaggi. Cioè non è che c'è un sistema unico. Dovete un po' trovare voi il vostro compromesso milioni insomma. Adesso qui lo faccio partire. Vedete qua in basso. Vediamo l'icona del fiorellino perché vuol dire che al momento il cheat è attivo. Vi faccio vedere perché magari non vi siete accorti giustamente. Provo a fare un reboot del core. Vedete? Cheats files loaded. Non è fuori qui scritto. Lo rifaccio. Cheats file loaded. Ok? Quindi vuol dire che lì lui sta caricando un cheat. Di fatto il gioco parte perché comunque io ho disabilitato i cheat. Cheats. Vedete è a zero. Perché comunque qui come vi ho detto prima gli ho dato il settaggio. Disable cheats unload. Se io tolgo questo e gli do emulation reboot core. Vedete? Mi va in blocco perché lui mi carica il codice. Ecco diciamo che un po' questo è il metodo più semplice che ho trovato io personalmente per quanto riguarda bizzoc con cheat. Cheat o cheats. Ok? Altra cosa che aggiungo che posso dirvi è che possiamo anche volendo salvare praticamente un file. Possiamo salvare un file con all'interno appunto i nostri cheat. Allora qui vedete possiamo fare file. Io ho inserito questi. Posso anche inserirne altri. Mettiamo caso che ne abbiamo tanti. Quindi noi per sicurezza per tenerci i cheat salvati per questo gioco possiamo fare file. Save as. Quindi lui mi crea praticamente. Vedete? Un file che poi in realtà me l'ha già creato di base. Però comunque possiamo anche cambiare il nome. Adesso noi facciamo così. Quindi dentro la cartella genesis c'è una cartella cheats. Tutto lui in automatico. Dove appunto troviamo il file cht che sarebbero appunto il file dei cheat. Quindi volendo posso salvare. Vabbè qui posso sovrascriverlo. Oppure potevo fare tranquillamente così. Ok? È la stessa cosa. Ok? Se mettiamo caso qui io cancello. Vedete? Tolgo il codice. Però come faccio adesso a recuperarlo? Mi tocca tornare nel sito? No. Posso fare tranquillamente. Apri. Vedete? Scelgo il gioco corrispondente. Il cht dentro la cartella chits. Ma ci linka già lui in automatico. Quindi non dobbiamo fare nulla. Gli dico apri. In automatico vedete? Mi aggiunge nuovamente il mio codice. Ok video finito. Allora. Se avete dubbi, problemi, incertezze. Provate a scrivermi nei commenti. Io se posso vi rispondo. Vi ripeto. Non è un argomento semplice. Quindi se mi scrivete. Ma ho provato ad applicare un trucco. Un cheat da quel gioco. Ma non funziona. Ragazzi. Cosa volete che vi dica? Non è semplice. Vi ho già detto. Già l'emulazione in sé. La dobbiamo prendere un po' con le pinze. Ok? In più andiamo oltre. E cominciamo ad applicare questi trucchi ai giochi. Poi li snaturiamo completamente. Quindi portate pazienza. Se non vi funziona un trucco. Amen. Tirate dritto. Andate avanti. Cambiate gioco. Non perdeteci troppo tempo. Insomma. Quindi anche qui. Prendetela molto alla leggera. Se avete intenzione. Provatesi. Però insomma. Non diventate matti. Mi raccomando. Dopo. Se vi è piaciuto il video. Mettete un like. Se vi piace un video che faccio. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi anche al canale Twitch. E basta. Con questo ragazzi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi. Iscrivetevi al canale. Grazie.